Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in poche parole Misano il circuito intitolato al nostro carissimo Marco Simoncelli Dominio assoluto di Nu Rossi, ve lo dico anche se non fa realistico ma due secondi e mezzo più veloce del secondo in qualifica Potrebbe però essere diversa la gara, speriamo che lo sia perché due secondi e mezzo al giro vuol dire che in tre giri non vedeva più nessuno E sono pochi tre, una gara completa li doppiamo tutti invece Però non credo, la qualifica è sempre diversa, infatti come avete visto spesso sono riuscito a fare la pole position Poi in gara bisogna giocarsela, è vero che la pole me la faccio io da solo così in scioltezza E invece in gara devo fare casino, telecronaca, esaltazioni pazzesche, cambiate al limite E questo è il bello ragazzi, andiamo a Misano, mi dispiace tanto ma io sto facendo adesso questo video da lasciarvi mentre sono in vacanza Ma comunque vi ho già detto che proveremo a fare qualcosa di bello con le mod in futuro, con delle moto più serie Adesso facciamo scorrere sto campionato che è bello da seguire, gli altri invece li facciamo belli pure da vedere Oltre che da seguire, va bene? Alla Maindra di Nurozzi è in arrivo un aggiornamento del motore In arrivo vuol dire che adesso ancora dovrò fare i conti col solito però E partendo tutto a sinistra da Misano qui C'è l'ingrasso della variante del parco a destra Quindi attenzione perché probabilmente entraremo terzi nella prima variante Con le due onda di Canet e Mir davanti Si scaldano i motorini, due e mezzo, quattro tempi ed è partita la gara Vediamo le due onda, infatti sì, accelerano almeno Canet molto bene Ma vabbè ovviamente Mir era il terzo Arriva anche lui però, le due onda prima e seconda Nella variante del parco Però Nurozzi, attenzione Si rimette in mezzo ai due, oltre alle traiettorie Mi sono spaventato, pensavo ci fosse Mir dentro Invece non c'era, eccolo È rimasto un po' tardato rispetto a Canet Non me l'aspettavo Ah, lungo, lungo Nurozzi, lungo Allerio Attenzione Nu, l'emozione di correre qui A Misano Può giocare brutti scherzi Come al solito un Nurozzi non troppo reattivo all'inizio Chissà forse è anche la moto che non fa lavorare bene Tutti i componenti così all'inizio Però siamo ancora qua, bisogna svegliarsi fuori adesso Attenzione, ci avviciniamo alla staccata brutale della curva del tramonto Dove si frena con la moto tutta completamente piegata Mamma mia, cosa fanno qua Larghi, McPhee si ributta dentro Intanto c'è stato un contatto tra Nurozzi e probabilmente Martin Sempre loro Con Martin che perde posizioni Ci saranno altri chiarimenti a fine gara C'è Niccolò Antonelli qua dietro a Nurozzi Attenzione Appena passato il curvone Oltre perché qua le altre moto vanno più veloci Ci avviciniamo ad un tratto importante La curva del carro Ah, Antonelli ci prova Attenzione, vediamo se Nurozzi risponde Sì Mir Combatte anche lui in quarta posizione Attenzione alla prima Misano Stretti sul cordolo che arrivano gli altri Che rischio Nurozzi si butta dentro Seconda Misano E poi traguardo Va via il primo giro Nurozzi è terzo Un po' di confusione in questo primo giro Un po' di casini Sempre punti importanti però in ballo Il giro pazzesco di Nurozzi in qualifica Non gli è valso un gran vantaggio in gara Abbiamo visto Probabilmente Frutto di diverse scelte Alla fine viene fuori quella roba lì Ma la gara è sempre una storia a sé Intanto Nurozzi però rampa su Canetti Il primo settore è sicuramente il suo Occhio qua Ancora lungo Mannaggia Mannaggia Ancora lungo Perderà un altro paio di posizioni Sbucca a fianco di Antonelli Però attenzione qua L'uscita sul rettilino Che porta alla quercia Buono Nurozzi Asce bene Antonelli incespita un attimo sul cordolo Però siamo quarti C'è Mir Davanti Questa è la notizia Che più Ci fa riflettere Adesso Mir secondo addirittura Ha passato Romano Fenati Sta facendo una bella gara qua A Misano Anche Antonelli comunque Dietro di noi Se riesce ad attaccarsi Magari lo portiamo fino al podio Sempre che ci arriviamo noi Però fino al podio Attenzione qua Un po' larghetti Antonelli continua ad essere insidioso Per Nurozzi Che però dall'esterno resiste E si avvicina a questi due davanti Che in realtà hanno battagliato Cioè Fenati Ha passato Mir E Nurozzi ne ha approfittato Per prendersi quei metri Attenzione ancora Mir Asce dalla scia di Fenati Sempre ad osservarli da dietro Occhio però al motore Di Niccolò Antonelli Che potrebbe essere pericoloso Qua dietro Infilarsi In qualche momento Qua tutti larghi Nurozzi copia la loro linea Antonelli ancora Al carro Gli piace quella curva lì Poi però Nurozzi stringe Anche su Migno Attenzione all'esterno Su Mir Ci sono le Misano Ci prova Resiste Nurozzi Esce anche fuori da Fenati Attenzione Come facciamo adesso qua Sicuramente ci buttano dentro Canet Contatto Mamma mia Ah Fenati Fenati Però ha fatto tutto da solo Perché noi eravamo all'esterno Di sicuro non abbiamo potuto Allargargli la linea È Mir che però si avvantaggia Di tutto ciò Attenzione Occhio Migno ancora lì Variante del parco Per l'ultima volta Ultimo giro Nurozzi prova a giocarsela All'esterno Per poi chiudere all'interno Dall'altra parte Nel cambio In uscita Occhio qua con Migno Mir Canette Nurozzi Di nuovo i primi tre Della prima fila all'inizio Tavolta Nurozzi Non va a lungo qua E questo potrebbe essere fondamentale In chiave Ultimo giro E ultimi assalti Bisogna uscire forti qua Tutto sul cordolo Nurozzi Se la va a rischiare Con lo spigolo Della gommetta posteriore Che va a flirtare Col bordo del cordolo Attenzione alla staccata Qui della quercia Niente da fare Staccano forte là davanti C'è Migno Qua all'interno Con Nurozzi Che deve andare a proteggere Sul cordolo Mir davanti Canette secondo Nurozzi terzo a podio Ma sono tutti là Da Antonelli in poi Per giocarselo comunque Occhio qua Al tramonto Nurozzi Rimane stretto Antonelli ancora di più Attenzione a Canette Rischia di sportellarsi Con Nurozzi Ragazzi Rettilineo Curvone Ultimo tratto È il momento di far qualcosa Speriamo che non ci vengano a disturbare C'è Migno qua nella scia Nurozzi va a fare una linea diversa Per non far passare nessuno Qualcubone Migno ci vorrebbe provare Ma non può Ci vorrebbe provare Ma non può Attenzione Arriviamo verso il carro Nurozzi vicinissimo Gran frenata qua Vediamo se si butta dentro Lui qua di solito Gira stretto E adesso però Ha fatto una traiettoria diversa Dentro su Mir Sportellato Attenzione a Antonelli Nella prima Misano si butta dentro Meno 11 Ce la giochiamo di nuovo Per farci le qualifiche Ragazzi ci vediamo in griglia Come al solito È vero che facendo due o tre giri Avrei potuto migliorare Anziché il mio solito giro secco Ma questo vale anche per tutti gli altri circuiti Quindi Nurozzi conferma una leggera vulnerabilità Da queste parti Perché partiamo Settimi Quattro decimi Dalla pollo Quindi comunque Settimi Ci sono Otto nove piloti In mezzo secondo Non male Speriamo bene per la gara Attenzione perché vedo Nurozzi in mezzo Alla terza fila Che vuol dire l'ottava posizione Allora forse Non ho fatto scorrere il tempo Cioè l'ho fatto scorrere fino alla fine Ovviamente dopo aver fatto il giro Ma non mi sono reso conto Che qualcuno ci ha soffiato La settima posizione Si tratta probabilmente di Fabio Di Gian Antonio Va bene cambia poco Tanto siamo più all'interno Per la prima staccata Attenzione ragazzi Bisogna cercare di fare subito Una piccola rimonta Per stare lì davanti Dove c'è Mir Che sicuramente subito Si butterà all'interno Qua della prima curva Eccolo infatti E in testa Mir Con Canet Martin Bulega Li vedo un po' tutti qua I soliti noti Attenzione Nurozzi Buone le sue prime due curve Attenzione qua Scorrevoli Bisogna andare In questo tratto di Aragon Tutto sul cordolo Nurozzi che rischio Subito vicino a Bulega Buona la staccata Si è avvicinato molto A questi quattro Attenzione adesso Anche la prossima frenata È delicata Qualcuno lascia Delle righe per terra Forse è proprio Bulega Che perde infatti Qualche metro Dai primi tre E occhio perché adesso Arrivano le S In discesa Che non sono proprio Belle belle Non ti fanno proprio Pensare a Babbo Natale Diciamo così Nurozzi affronta largo Per poi uscire stretto Vediamo se riusciamo In qualche modo Ad appenderci Alla linea di Bulega Eh no Perché comunque Alla fine Le due traiettore Si equivalgono Siamo ancora Lontanini da Mir Bisogna recuperare Un po' di più Staccatona selvaggia Qua di Nurozzi Che si infila A pelo del cordolo Pronto per farla Scorrere in salita Verso destra Qua Questa curva Ceca Che è un po' Una piccola Arrabbiata Sembra Bravo Nurozzi È stato forte È stato forte In questo tratto Attenzione qua Abbiamo bisogno Di una scia Su questo lungo Drettilinio Forse la troviamo In Bulega Eh sì Anche trappo vicino Però Vediamo Cosa succede Proviamo a portarci All'interno Vediamo se magari In frenata Riusciamo ad infilarlo Scia non scia Scia non scia Frenata Oh mamma mia Eh frena fortissimo Bulega Attenzione qui Va lungo qualcuno Potrebbe essere Fenati così Dai colori della moto Però Tutto come prima Con Mir Che dovrebbe essere Secondo adesso Esatto Canet lo passa Rettilino Frenata Prima curva Insidiosa Verso sinistra Nurozzi va A pennellare Il cordolo Sia in entrata Che in uscita Dai Nu Dobbiamo stampare Dei tempi Per rimarginarci Un attimino Qua si resta Con la terza Appoggiata Si apre a metà curva E via Cannone Verso Bulega Oh mamma mia Bulega che lascia Un'altra Strisciata a terra Mamma mia Nurozzi Mi due Con le sue Traiettorie Buono Qualcambio Attenzione Va a fare Molta meno strada In questa S Nurozzi Bravissimo Attenzione E all'interno E all'interno Anche con Mir Che va a stringergli La porta Addosso Forse non l'ha visto Non se lo aspettava Lì così Interno Nurozzi aveva fatto Una mezza magia Con quella linea lì Purtroppo Tutto vanificato Con la sportellata Di Mir Che alla fine Vedete Le tirano anche loro Quindi quando ogni tanto Capitano dei contatti maschi Non dobbiamo Dispiacerci Finché È roba tollerabile Va bene così Ultima S Prima del mega rettilineo Canette Nurozzi Sono vicinissimi Nurozzi Prova un'infilata Mamma mia Caparbia a dir poco Non so se sia stata Una bella idea Perché forse ci serviva Di più la scia Di Canette Da vicino Perché quella di Mir Non arriva fin qui Arriva però Quella di Canette Verso di noi E infatti prova A stare dentro Lo spagnolo Eh bastardo Occhio alle frenate Allora Facciamola scorrere bene Questa moto In sto purgone Lunghissimo Verso sinistra Andiamo a prendere Il gas in mano Qua a metà Dentro nel cordolo interno E siamo alle solite Bullega e quarto Ultimo giro Inizia adesso ragazzi Che bella gara Tutti più o meno Con passi simili Con Bullega Che qua prova Di inflare Nurozzi E ce la fa Si è aiutato sicuramente Con la scia Sul rettilineo Lo ha passato Però Nurozzi Gli passa Ad un millimetro Lì Nel curvone Lungo In appoggio Verso destra Poi deve andare Un po' largo qua Attenzione Non perdiamo La calma E il giudizio Buona questa staccata Buona questa staccata Su Canet Su Canet Su Canet Annaggia Si è persa La moto in uscita C'è quel Mir lì Che sta andando Da solo A salutare A salutare tutti Che non mi convince Per cercare di ricucire Per cercare di ricucire su Mir In un finale Che però in realtà Vede lo spagnolo Scappare via Occhio qua Con Canet Riesce a passarlo Stavolta Non c'è contatto Come al giro precedente Con Mir Solo che Nurozzi Va a prendere il cordolo esterno E la moto Sbacchetta un attimino Di nuovo Canet Secondo Occhio qua La staccata Nurozzi Fuori Cosa voleva fare Probabilmente Provare A fregarlo qua In uscita salendo da qui Eh ragazzi La vedo difficile Una prima posizione Però Ce la stiamo giocando bene Ancora con Canet Occhio qua Rettilino Fianco a fianco Con Nurozzi Che esce meglio Ma Canet Sicuro si rifarà sotto Con la scia Stavolta ci sto io All'interno Caro Aaron Sta arrivando Da fuori Attenzione Copre tutto Nurozzi Ultima frenata cruciale Teniamo la moto Cucita Cucita No Più cucita Merda Bulega No ragazzi Ho sbagliato troppo L'ultima curva Ho sbagliato troppo L'ultima curva Porca caccia vacca Eh capita Ho pensato Proteggermi Da Canet Che era pronto Per l'assalto E alla fine Sconsideratamente No perse due Mannaggia Di nuovo a meno 23 Ragazzi Sto mondiale Non vuole prendere Una piega stabile Peccato 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 Perché la seconda Posizione Faceva gran meglio Alla fine Quarti ragazzi Per cercare di Proteggerci alla fine Io l'ho detto Comunque Perché abbiamo fatto Un bel garone Ma in questa pista Nonostante la bella gara Nuro sia a qualche punto Debole E lo ha dimostrato Però un quarto posto Di certo Non è la peggior cosa Del mondo Vedremo poi Cosa succederà Ragazzi Avremo credo L'aggiornamento Del motore Poi lo proveremo Intanto vi saluto Un grande braccio Alla prossima Ciao